Ciao a tutti, questo è il 25th giorno, faccio allenamento ogni giorno e posto video. In alcuni giorni ho anche posto video, come oggi, in cui ho anche posto alcune instruzione per montare il Gopro sito e bar mount sul mio Canyon Endurance Road Bike. E ora faccio alcuni spettacoli, quindi vediamo cosa succederà. Grazie per aver guardato, ciao! Eh, ma io devo fare gli esercizi, come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Well, come facciamo? Come facciamo? Come facciamo? Let terrato. Lungen di storia. Come facciamo? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 , a tutti. a tutti.